Siamo Walter Cherubini, oggi è martedì, quindi parleremo di periferie, insomma voi dovrete fino alle 9 qui con noi raccontarcela su un po' Sì, sì, ci sono tante robe da dire, oggi ho già buttato l'occhio Ah, hai già buttato l'occhio, sono già notizioni, si parla dello stadio o no? Non lo so Probabilmente sì, basta cercarlo che sicuramente c'è un articolo sullo stadio Basta scartabellare un po' e qualcosa si trova Poi stasera dovrebbe esserci, potrei dire una cavolata Non so se gioca a Milano o l'Inter stasera, se gioca a Milano grande partita a San Siro Contro il Dormut Il calendario, intanto i contatti Intanto i contatti, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 e subito puntualissimo Alberto Buongiorno amici del mattino, linea 1 della metro, ferma Ok, adesso andremo a vedere anche questo, se si diranno tutte le cose Stasera gioca a Milano contro Borussia Dormut alle 21 Quindi Milan Borussia Dormut stasera, quindi Gran Burdel, anche Zola San Siro Ma vabbè, io capito qua, dico sempre, lo sapevo che c'era lo stadio Non è che adesso, finché rimane anzi E questi erano i Rama, Arcomi e Sciablo con Hollywood E noi incominciamo la nostra giornatina qui su Crystal Radio E mi raccomando poi rimanete sempre collegati tutto il giorno su Crystal Radio Perché tutto il giorno c'è da ascoltare grande musica Ma soprattutto tanti programmi e tanta Milano Quindi mi raccomando, eh, mi raccomando Mi raccomando, ragazzi Allegria M1 chiusa tra Cairoli e Pastore E i treni sono sostituiti da bus Come ci ha gentilmente segnalato Alberto Sai perché sono chiusi? Eh, dimmelo Dai, l'ho visto D'ATM lo dice Ma che mi fa morire Però sincerità Un tratto di galleria è stato danneggiato durante le ultime lavorazioni notturne Cioè questi vanno a lavorare e fanno casino Però sono sinceri Però sono sinceri Apprezziamo la sincerità, devo dire Intanto ricordiamo che, segnaliamo che ieri Non dovrebbero esserci stati particolari disagi Nonostante le quattro ore di sciopero Ricordiamo che lo sciopero inizialmente è previsto per ieri E poi è stato sostanzialmente Ha visto una scissione Come se fossero i tech debt Le sigle sindacali hanno fatto come i tech debt E molti altri gruppi musicali Si sono divise C'è chi ha scelto di farlo comunque ai 27 Da 24 a 4 ore E chi ha deciso invece di posticiparlo Come USB, unione sindacale di base Che ha deciso appunto di posticiparlo A venerdì 15 dicembre Per fare 24 ore Questa è la situazione dei scioperi Vi faremo sapere quando ATM Pubblicherà sostanzialmente la fine dei lavori E la ripresa della circolazione In maniera ordinaria e normale Sì, tanto poi arriverà la notifichella Vediamo poi Arriverà tutto quando riusciamo a dare la notizia a tutti Ieri infatti ATM aveva detto Tutte le linee metropolitane sono aperte Il traffico in alcune zone potrebbe ritardare Il viaggio di bus, tram e filo Comunque è sempre il consiglio di andare a vedere in tempo reale Sempre E ricordo che c'è anche un numero di telefono Comunque se volete chiamare l'ATM Quello che ho usato Io spero che non ti ascolti No, no, ma funziona benissimo No, ma guarda che è bellissimo Funziona benissimo Ci sono Che ti rispondono da tutto Poi c'è quella roba lì che non capisco mai Questa telefonata potrà essere risposta Ma che me frega dove mi rispondono Ma se mi dà informazione A me che me frega Sì, c'è anche gestore di telefono Dalla Bulgaria Ma che va bene, anzi Una volta ho stato un po' 10 minuti di parlare Con una ragazza che rispondeva dall'Albania Perché ero curioso di sapere dove stava Visto che erano stati in vacanze in Albania No, è stata una bella chiacchierata Tutto iperregistrato, eccetera Vabbè, ma è stata gentile No, è stata gentile L'hai regalato il licenziamento Che chiamava da Durazzo Anche tu sei stato, no? Non sei curioso di sapere come era in quel momento L'Ecu-Durazzo? No Io sì, ho fatto due chiacchiere Mamma mia No, con, per esempio Chi passa in redazione Che è origine albanese Mi metto volentieri a parlare Vedi Di Durazzo Con la ragazza che risponde al La poverina Tutti che la chiamano Perché Insultarla Cosa così Non è che la chiamano per insultarla Ah no, quelle quando ti chiamano loro Che tu li insulti Giusto? No, non fatelo Non fate la casa Anche se è difficile a volte non farlo Adesso c'è il disco Infatti, stavo dicendo Adesso ci sono le telefonate registrate Adesso c'è il disco Quindi è un po' come Un po' come mandare a quel paese il casello Ah sì sì Si dà la stessa soddisfazione Perché tu lo mandai a quel paese? Ma no, faccio una battuta Io lo saluto Ogni tanto faccio una battuta Cioè cominci a rivelerci io Grazie mille Buon viaggio lei Ogni tanto faccio io Lo so, una volta eravamo in macchina No, io faccio sempre una battuta Un po' così Ma a proposito di strade e autostrade Ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde Che ci dà la situazione del traffico in tempo reale E questo era Neffa con Agio Perzo Sonno Agio Perzo Sonno A me lo dici Neff A Neffa E tu quando è che l'hai perso Sonno? Da tempo Da tempo Da anni Però Soffri di insonnia No, no Ieri sono Ieri come dicevo E poi l'ho detto anche a radio Non ho dormito niente Ok Stanotte ho fatto sei ore filate Oh Sei ore filate Bello, com'è la sensation? Bello, bello E io metto tre telefoni per la sveglia Due telefoni e una sveglia analogica Vabbè La prima non l'ho sentita Zero 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 Non so dove fossi con la testa Agio Perzo Sveglia La prima per questo ne metto tre E non c'entrano gli aggiornamenti No, no, no Sappiamo E' quella analogica che ho perso Ok, perfetto Ma secondo me l'ho girato Perché girare era girata Quindi sostanzialmente Ah, è quella di una nota marca Di mobili svedesi? No Ah, no Sai che c'è una che se giri Si azzittisce Si azzotta Eh, più o meno Si azzittisce Sì, è più o meno la stessa cosa Ma non del noto marco Ah, ok Svedese a quattro lettere Ok, va bene Cosa ci abbiamo lì davanti a te? Allora Andiamo per importanza Delle personalità trattate Ok Non di Diciamo di sostanziale Perché noi siamo per la lotta di classe No No, no, no L'India non ci fa Le caste non ci fanno un baffo Perché uno mi potrebbe dire Alla prima della scala non c'è Mattarella Ah E chi se ne frega No, perché Ah, cioè Quindi il Presidente della Repubblica è quello più basso Non vuoi capire No, è quello più alto Di personalità Ma la notizia La notizia è quella più scarica Beh, vi dico così velocemente Tra i nord Cioè sarà per i prossimi È stato rinnovato il contratto per i prossimi dieci anni È cambiato il prefetto di Milano Ok Adesso lo tratteremo Eh, tra il prefetto e il treno E tra i nord è chi? Perfetto Beh, il prefetto è più importante Se io dico a quelli che fanno tutti i giorni Gallarate Milano Eh, però Tema della sicurezza Tema della sicurezza Allora, come ha sentito ti ho rovinato tutto Quindi prego Di personalità Chiaramente dobbiamo iniziare Col Presidente della Repubblica Perché quest'anno Molto probabilmente Sul palco reale In occasione della prima della scala Al 7 dicembre Ci sarà solamente La seconda carica dello Stato Ossia Presidente del Senato Ignazio Larussa Con Di fianco Chiaramente Beppe Sala E Attilio Fontana Come tutti gli anni Ricordiamo però che l'anno scorso C'erano Beppe Sala Attilio Fontana E Giorgia Meloni Presidente del Consiglio E Mattarella Presidente della Repubblica Quest'anno Lanza Fa il ponte Questa è una Mattarella Fa il ponte Non può venire Lanza Quindi Fonte diciamo Più che Abbastanza autorevole Più che autorevole Non si sanno ancora bene le ragioni Però Sostanzialmente Non dovrebbe esserci Sai cosa ha detto? A Giuper Suson Adesso Ci saranno Chiaramente Anche il Ministro dell'Infrastutto Che c'è Chiaramente Chiaramente l'ho detto tu Chiaramente l'ho detto io assolutamente Perché è sempre qua Che è il Ministro dell'Infrastruttura Matteo Salvini E in questo caso Chiaramente Il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano Bene Beppe Cessi Beppe Cessi ovviamente Ci saranno anche i vigili Boh Perché vi ricordate Che c'è quella vicenda Dello sciopero indetto Il 7 Anche qua Si andava verso Un ridimensionamento Date le Sostanzialmente La situazione Della sicurezza A Milano In un giorno Di ponte E di festa Chissà doveva Adesso Chi chiamai Mattarella Chi chiamai il Presidente Così Dov'è No No Vi veniamo anche noi Nel senso Già io lo capisco Quante ne ha fatte Di Quante ne ha fatte Di Scala 7 più 2 Se c'è andato sempre Eh no C'è stato anche in mezzo al Covid Quindi sicuramente Anche solo fatte le 5 Lo scorso febbraio È andato a Sanremo Eh infatti Forse per quello Ha capito che a Sanremo Gli piace più che la Scala Da Sanremo Si è sentito Benigni 40 minuti E poi è andato via Vabbè però è contento No Benigni No Sembrava anche il Presidente Erano tutti contenti Anche noi da casa E anche io ero contento Di vedere il palco reale Con Mattarella a Sanremo Vedi Come sei presidenziale Bravo 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 Andiamo con un po' di musica Neia Momsday E questa era Neia Momsday 1999 Neia 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 Non so Ah no Effettivamente Non so Glielo chiederemo Tanto sicuramente Ho detto a un parente Nel figlio programmazione Di questa radio Ogni 3x2 Per fare questa canzone Devo dire che a quest'ora Della mattina È piacevole Molto natalizia Molto natalizia Sì Molto natalizia In realtà penso che Parli del giorno della mamma Perché siamo a Momsday Quindi vabbè Però vabbè Per le vibes Infatti sta fa benissimo Oggi secondo me Con questo frescolino Uscite dal vostro piumone Che ascoltate questa canzone Sta bene Ma sì ma perché Tanto adesso iniziano Un po' le luminarie Sì Ecco Tra due giorni Inizia la fiera E non si riesce Ad aprire un sito Di informazione locale Senza che venga fuori Il pop up Villaggio delle meraviglie A To Villaggio di Natale E tagli Villaggio di Natale Ragazzi siamo arrivati Siamo pronti Siamo prontissimi Per il Natale No Fabio Guarda Non vedo l'ora Sono proprio qua Che sto Scalpitando Guarda Siccome Stiamo per Andare in pausa Sì Io anticipo Che ci sono Delle parole Abbastanza dure Ma probabilmente Anche condivisibili Pronunciate da parte Di Arrigogiana Che è il direttore Generale Di ATM Che sostanzialmente Se la prende Un pochettino Non è che se la prende Sottolinea il fatto Che ci siano Microsigle Sindacali Anche all'interno Di ATM Che spesso La presentano I lavoratori Dice Non solo In decine Ma anche Spesso Solamente In unità Ok E sostanzialmente Parla Della necessità Di una soglia Di sbarramento Tra virgolette Per Non per limitare Lo sciopero Ma diciamo Per Per gestire Anche la contrattazione Immagino Di queste microsigle Sindacali Poi andremo a capire Per bene Visto che Il tempo È provocatoria Come cosa Però Posso capire Però È una democrazia Mi viene da dirti 10.000 10.000 Lavoratori Sigle sindacali Lui dice Addirittura Sotto alle decine Di persone Sotto alle decine Di persone Complicato Da gestire Chiaro Andiamo in pausa Ci vediamo fra pochissimo Però State qui con noi Emma Insieme a Loredana Che Bertè La Bertè Sbagliame ancora Non è nuova Stranzone Però A me piace sempre La Bertè Eh beh Sì Sì Inconfondibile Grande fan Una delle canzoni Che preferisco Nella vita È dedicato Infatti Cantata da Bertè Fantastica Stelita da Fossati Sì Lui ha scritto Una marea Di quelle Proprio Fossati è uno Che magari Come cantante lui Vabbè Boh Non lo so No Nel senso che magari Non ha fatto quel successo Meritato Che doveva fare Poi quando Se ti dicono Dimmi un cantante italiano Non ti viene in mente Fossati Adesso Adesso Sinceri 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 Bravissimo Ma ne ha scritte Un poeta Ha scritto dei pezzoni Che sono qualcosa Di pazzesco Sì Da recuperare Da recuperare Niente No Volevo dire qualcosa Altro di apprezzamento Nei confronti Di Ivano Fossati Niente È che è un nome Che mi piace Ivano Bel nome Ascoltatelo Perché veramente Già lo dico io Che comunque Non ho Non sono in là Con l'età È veramente Come diceva Fabio Un poeta Un poeta Allora Molto diverso Anche da altri tipi Di cantautori Che sono più Diciamo più Non più blasonati Più Più Famosi Poi vabbè Ivano Fossati Si è anche ritirato E è ritornato Sulle scene Grazie a Mina Dicendolo Fatto solamente Perché mi ha chiamato Mina Sai che Si era ritirato E poi ha fatto La sua Ha fatto Il disco Insieme a Mina E nulla Quindi ascoltatelo Andiamo avanti Con la segna Sì va bene Il gesto lì era Avanti Avanti Nasce oggi Velocissimo Alberto Moravia Umberto Veronesi Alberto Moravia Umberto Veronesi Ok no Ok perfetto E anche Fabio Grosso Colui che ha tirato Il famoso rigore A Berlino Niente Volevo dire solamente Questa cavolata Torniamo su quello Che stavamo dicendo prima Perché Cosa succede Appunto Arrigo Giana Direttore generale Di ATM Posso dire Che ci sono dei nomi Allora con detto Alberto Tomba Pensate subito Arrigo Sacchi Subito Ci sono dei nomi Che sono troppo legati A dei personaggi Che non riesci a A staccare Infatti dicevo Cosa vuole Arrigo Sacchi Adesso Invece no Arrigo Gianni Giana Giana scusa Direttore generale Di ATM Presidente di Agens Che è un'associazione Di rappresentanza Delle aziende di trasporto Appunto stavamo dicendo Che ha dichiarato Abbiamo delle sigle sindacali Che in maniera responsabile Sedono al tavolo Eccetera Poi faccio l'esempio di ATM Che conta 10.000 dipendenti E abbiamo un micro sigle Sindacali poco rappresentative E per quanto dico Poco rappresentative Intendo nell'ordine delle decine Se non delle unità E allora dice Noi come associazione Di categoria Abbiamo presentato Una proposta di legge In questo senso Non per limitare Il diritto di sciopero Ma per prevedere Soglie di sbarramento Perché lo sciopero Dovrebbe essere usato Come estrema razio Di una trattativa Sostanzialmente Infatti Il titolo È una trattativa che vedo complicata Anche se hai tutte queste sigle Che sono poco rappresentative Perché altro Il titolo Chiaramente qual è Il direttore generale di ATM Basta proposte indette Dai microsindacati Che più o meno Un po' di click Infatti Ne abbiamo cliccato E l'abbiamo riportata Come dei pirla Abbiamo cliccato anche noi Continuando con il trasporto pubblico Appunto da segnalare Ciò che abbiamo anticipato prima Perché Ieri è stata approvata La delibera della regione Trenord gestirà Il servizio ferroviario Fino al 2033 Quindi Alte dieci anni L'obiettivo Leggo dal Corriere della Sera Milano Treni puntuali E un milione di passeggeri Al giorno Il nostro obiettivo Spiega l'assessore regionale Ai trasporti Di regione Lombardia Franco Lucente E portare il servizio ferroviario A standard qualitativi E quantitativi Sempre più elevati Treni puntuali E regolari C'è l'introduzione Di un piano di intervento Per la gestione Delle interruzioni Eccetera eccetera Sostanzialmente Un po' come dire L'abbiamo rinnovato Per altri dieci anni So che ogni giorno Ci sono problemi Stiamo cercando di sistemare Simone Negri Ma poi quando dice Che ci sono i problemi Dicono che i problemi Sono dell'infrastruttura Che non è roba loro E quindi insomma Forse questa cosa Di aver scorporato Mi viene da dire Non è forse La più grande genialata Della vita Mette il punto Simone Negri Simone Negri Ex sindaco di Cisano Boscone E attuale Consigliere di Regione Lombardia Sì mi piace sempre Quella che è un sindaco Perché sono sempre Dalla parte dei sindaci In quota PD Come qualcun altro Che ha sempre Dalla legge dei sindaci Dalla parte dei sindaci Vabbè niente Matteo Matteo Rizzi Ogni volta L'amenava su Con i sindaci E dice Pensate se Telenor Fosse un'impresa Che opera nel vostro condominio Sebbene come se Incredibilmente A fronte di un servizio Fatto di ritardi Sarebbe come se Incredibilmente A fronte di un servizio Fatto di ritardi Mancanze Di un rendimento scadente Il vostro amministratore Decidesse di rinnovarle L'incarico Per altri dieci anni Nessun altro preventivo Nessun'altra offerta Valutata Chi non vorrebbe essere Telenor Eh sì infatti Per me è che Non so Ci sono altri attori Che hanno fatto Che s'accolano Che s'accolano Tutta sta roba Cioè la verità è quella Ma poi pensa La transizione Come avviene Una transizione Secondo me Arriva un nuovo attore Cioè vogliono dieci anni Per fare una transizione Da Telenor Da un nuovo attore Secondo me Sono talmente imballati Di burocrazia Robe varie Che Chi va Va è difficile Mettere mano Ecco mettiamola giù così Sembra un po' Ragionamento lì Da Nanni Moretti Quando dice La destra e la sinistra Non è uguale Però effettivamente È complicato pensare A un passaggio del genere Depeche Mode My Favorite Stranger 7.43 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Sempre qua con Lorenzo Masieri Con i giornali Che ci raccontano un po' Quello che è successo A Milano Città metropolitana Tutto quello che insomma Come dico spesso Rende grande la nostra città Ma poi Milano È veramente così grande Make Milano Great Again Già abbastanza No non porta fortuna Poi come No No E non so Le elezioni ne ha vinte Poi non è finita molto bene Però insomma No perché altro bisogna capire Anche che succederà poi Ma questo è tutto un altro discorso Che 4 anni vuole un attimo Quando pensi ai Piuttosto che ai Ad altri capi di Stato Quando pensi alle elezioni Presidenziali americane È un attimo Che ti vuole al mandato Però loro hanno quelli Di midterm in mezzo Quindi veramente Vanno più veloci Perché sono sempre Vivono perennemente In campagna elettorale Praticamente E anche perché Comunque sappiamo Ogni cosa Alla fine Tra l'andare di politica interna L'occhio su ciò che fa gli Stati Uniti C'è sempre la parte dei giornali Quindi siamo anche coinvolti E quindi lo sentiamo Comunque Cambio di prefetto Perché a fine mese Termina il mandato Di Renato Saccone Claudio Sgaraglia È stato nominato Nuovo prefetto 63 anni È laureato in giurisprudenza Romano Il Viminale L'ha nominato Appunto come nuovo Prefetto di Milano Niente sostanzialmente Al momento non si può dire nient'altro A parte il curriculum Se non sbaglio Oggi C'è proprio il comiato Di Saccone Saluta oggi Tutti quanti Oggi dovrebbe fare Un saluto A tutti Diciamo Colleghi Politici locali Insomma C'è una sorta Di saluto Ufficiale O ufficioso Non so Ma comunque succede Cos'è arrivato? ATM Ma se fosse un match Su Tinder Scusami Ti chiedevo il nome Tutta la volta che tiro sul telefono Magari è arrivato Un match su Tinder E ti chiedevo di chi era Scherzo Scherzo ATM che rimanda Magari abbiamo gli stessi match Su Tinder Che ne sai ATM Magari sono io Che metto il match A Tinder Atm che rimanda La stessa notifica di prima M1 chiusa tra Cairoli e Pastori I treni sono sostituiti da bus I bus fermano a Cadorna Via Carducci E non a Cairoli Ecco E attenzione Che ricordano anche Che quindi Non si può fare il cambio Tra rossa e verde A Loreto Che è un bel problema Perché è una tratta chiusa Quindi è bel casino Bisogna allungarsi All'Oretto A Cadorna No no All'Oretto C'è rossa e verde Che si incontrano Ok ma Cadorna E' aperta Ah perché Ce l'hai fatta No perché ho letto Cairoli Giusto Cairoli Sì perché alla fine Ho letto Cairoli Allora Allora la tratta è chiusa Da Cairoli e Pastore Sì sì Quindi in mezzo C'è la firmata di Loreto Che quindi Per la verde funziona Ma Ascoltami piccolo Lorenzino Sì sì no no Per la rossa no Quindi se sei sulla verde E vuoi cambiare Non puoi farlo A Loreto E perché avevo perso Pastore Allora leggendo Cairoli L'ho detto ma che c'entra E' massa Può perdere un Pastore però E' il Pastore E' quello che va a riprendere Le piccole Immaginavo Comunque Niente Sostanzialmente Queste sono le due grandi Notizie di giornata Segnalo Questo non lo leggiamo però E' una bella indagine Che il Corriere della Sera E' una cosa bella Non la leggiamo E' una lista Perché è pagamento No è una lista di cose Perché c'è L'articolo a pagamento E non abbiamo i soldi Per leggerlo E' una lista di cose Perché sostanzialmente Sono stati fatti Dei test di percorrenza Verso il centro Da parte Dei cronisti Del Corriere della Sera Ok E quindi ci sono Cioè adesso Ci sono un po' di statistica Almeno 18 semafori E la velocità media Che arriva Che arriva da Magenta Di 25 km orari 25 km orari Chi parte da Ani Guarda Verso il centro 12 Ah ok Chi viene da Bergamo 32 Che anche lì Venire da Bergamo Comunque fare 32 E ci sono un po' di robe Del genere Sting If you love somebody Set them free Se ami qualcuno Lascialo libero In un certo senso Più o meno Non mi piace Che sta roba qua Di tradurre I titoli Sì non so Perché c'ho sto vizio Mi piace Pungente Mai avuto Pungente Se ami qualcuno Sting Dovrebbe essere Una roba del genere Ma tu non lo sai L'inglese Tu da cosa devi fare Vedi il pesce Come diceva Fratello di Capone No però No mi tocca Da cosa devi fare Ma no ma Mi ricordo il paradigma Vai a vedere chi c'è sul cavallo Risardi Risardi Allora Velocissimamente Perché ho letto per bene L'indagine appunto Di Corriere di Dastra Milano Che ricordiamo Ha Praticamente Mandato i cronisti Cioè I suoi cronisti Secondo me no I cronisti Per andare al lavoro Per andare al lavoro Si sono misurati Esatto È talmente lungo Eccetera Che non lo leggiamo C'è anche quanto dura Un semaforo Per il primo letto No fantastico Lì il semaforo di via Sberbel Dura due minuti Quindi magari è meglio Comunque Tra le varie cose La bici batte Il monopattino Anche per Oltre che per il minutaggio Per percezione di sicurezza E stabilità Che la bicicletta Sembra garantire Infine Stessa partenza Stesso arrivo Con i mezzi pubblici Che sono però I più sconvenienti Dicono Eh vedi Questo è il tema Cioè Noi vogliamo tanto Lo trasporto pubblico E tutto Ma poi Io continuo a ripetere Che poi secondo me Ultimamente Si sta sottovalutando Un mezzo Che è fondamentale Nel movimento In città Che sono i piedi Cioè Noi Sottovalutiamo Il fatto di poter fare Dei spostamenti a piedi Cioè ci sono delle cose Che tu puoi fare a piedi Cioè in centro Tu ti puoi muovere Tranquillamente a piedi Fai prima Perché tra il tempo Di attesa Di una metropolitana Anche se passano i tre minuti Il tempo Su e giù Esca le mobili Prendi anche l'ascensore La scena mobile Prendi anche uno Che ti prende in braccio E ti porta di sopra Comunque A volte a piedi Fai prima Se la distanza Da coprire Percorribile a piedi È difficile Che uno scenda In metropolitana Tra San Babi Dai Tuomo Secondo me Non c'è gente Che entra di là E scende di là Guarda Ce n'è Ce n'è Ma come Ma come Se non ti fai il corso E scendi giù In metropolitana Sei un po' uno stupido Dai Perché poi Giustamente Si dice sempre Ehi ma gli anziani Ehi ma le mamme Con il passeggino È vero Anzi Chi non ha quella roba Se ne esca fuori Dai mezzi I pubblici Vada a piedi Così c'è spazio per gli anziani C'è spazio per le donne Con i passeggini Per i ragazzini Che salgono con lo zaino I ragazzini Che salgono con lo zaino Sull'autobus Mamma mia Via via C'è una delle cose Più odiate Dalla gente Che sta E pensa che tutti Noi siamo stati Quella roba lì Però Tears for fears Shout Shout Come C'è un concerto Di ero Le storie tese In cui avevano Sostanzialmente Un intro Che era Shine on you crazy diamonds Dei Pink Floyd Che ha tipo Quattro minuti di intro Prima che si faccia Shine on you crazy Quattro minuti di intro Bellissimo Si crea l'atmosfera Fanno Ciao Ciao E poi inizia Servi della gleba Ma devi Devi vederlo Però Devi sentirlo Sai che sono dei cretini Loro tu Che racconti questi aneddoti Perché mi fa ridere Perché si C'è proprio Quella L'hai in mente L'hai in mente Vai Leggi Domanda con una foto Ha mandato Esatto Più di una Esatto Il disagio della rossa Chiusa da Cairoli A Pastor Avvertite anche Che ci sono Mille mila persone I bus sostitutivi A Cadorna Non so se stiano Abbastanza Citiamo testualmente Ditemi se no Non si deve incazzare Di prima mattina Si può Si può Si può dire Si può dire Poi bus sostitutivi Ma non passano da Cairoli Quindi scendere a Cadorna In più Sono all'otto da dieci minuti E non c'è ancora L'ombra della metro Allego Questo lo aggiungo io Allego foto In cui ci sono Le testimonianze Dopo quindici minuti La situazione è ancora questa Metro piene Stazioni Stracolme Ma sono arrivate adesso Questi messaggi Sono arrivati in questo momento Nel corso della pausa E quindi comunque È una situazione ancora Che in questo momento c'è Beh non è male Che alle otto o quattro del mattino Ci sia tutto sto disastro Sulla linea principale Della metropolitana milanese Pensavo a dirlo Che è la linea principale La vostra Si Si Non è quella che porta più Più persone Non ho scoperto di no Che è la verde Dovrebbe essere la verde Dovrebbe Ho questo vago ricordo Però sicuramente Quella principale Ecco Quella che tocca Più punti di interesse Che dirvi App di ATM Sul cellulare Tenetela sotto controllo E se vi viene in mente Strade alternative Con altri mezzi Che non passano In quelle zone Prendeteli Fate il giro largo Oggi Molto largo Tanto arriveranno Tutti in ritardo al lavoro Quindi Non c'è problema Infatti vedo anche la redazione Che non è proprio Strapiena di gente Quindi Può essere anche quello Vabbè Già che ci siamo Ricordiamo Però no In reddito La nostra regista è arrivata Assolutamente Nostra regista E Oggetto referendum Singolo Ah si si Quando noi facciamo Si si Il nostro Come si chiama Nexit poll Lei è tutto Lei è tutto Però è l'unica È l'unica Quindi è quello che pensa lei Sostanzialmente Comunque per quanto riguarda TM Segnalo che ieri Riccardo Truppo Di forza Di Fratelli d'Italia Consigliere comunale Era fuori Da Palazzo Marino Con i conducenti Del trasporto pubblico In una piccola manifestazione Su cui si chiedevano Maggiori stipendi E maggiori condizioni Di lavoro Dice Riccardo Truppo Il comune Si occupi del servizio Senza Scarica barili Ma è sempre bello Vedere Quanta armonia Gira Ma se lo fa l'opposizione Mi sorprenderebbe Se non lo facesse Ma no Il problema è E quando lo fanno internamente Tu dici Ok Si può essere questo Anzi a volte c'è più internamente Che esternamente C'è l'opposizione Più da dentro Che da fuori A volte Quindi Va bene Abbiamo avuto una testimonianza Infatti 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 Comunque Mi raccomando State attenti A muovervi Questa mattina Con la linea Rossa Con ATM In questo momento È Abbastanza Un rebelot Sulla linea rossa Abbiamo visto appunto Le testimonianze Che ci arrivano Al 33178 853 555 Scriveteci Che insomma Noi diamo Spazio Alle vostre Alle vostre relazioni Di percorso Si possiamo chiamare così Relazioni di servizio Proprio in questo momento Va bene Andiamo avanti con la musica Adesso è il momento Di analisa con ragazza sola Analisa ragazza sola 8 e 21 minuti Martedì 28 novembre Buongiorno a chi si è messo in ascolto solo adesso Se dovete prendere la metro rossa Fate un'altra strada Ci dicono che i bus sostitutivi Un autobus Non è che proprio Non c'è molto spazio Per farli passare Devono fare il giro Dall'altra parte Fanno via meravigli Penso che vadano Beh a me adesso Non so il nome della via Ma a me viene solamente una In cui può passare effettivamente Un autobus Quella che arriva dritto in Corlusio Esatto Eh sì Meravigli quella Beh comunque Amate di pazienza Cerchiamo di Ma posso dire una cosa Ma non è nata al lavoro Ma state a casa oggi Ma che ve frega Capo non posso Cioè non mi state addosso Così dite Ma noi cerchiamo di allietare Se lo fa qualcuno della redazione Non lo meno No scherzo Noi cerchiamo di allietare Questa mattinata Un po' così parlando di Natale Scusate Perché ieri Come ce lo stavamo chiedendo Ieri è arrivato in città E ha iniziato l'allestimento Sì di chi Del Di Spelacchio No Ah no sai che sono affezionato a Spelacchio Dall'albero di Natale Che non era Spelacchio Che ci sarà in Duomo Sì Abbiamo in Italia che ci sarà in Duomo E noi ci chiedevamo Ma dopo l'estetista cinica Di su e di giù Ma di chi sarà quest'anno E quest'anno sostanzialmente L'albero dei giochi Della fondazione Milano Cortina 2026 Ah Quindi non si sa ancora Bene Appena iniziato appunto l'allestimento Ma sembrerebbe Che avrà come addobbi I simboli delle olimpiadi Paralimpiadi Cinque cerchi Eccetera 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 Quindi Nessun grande marchio Della moda Dell'internet Eccetera Ma fondazione Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 Certo è che io mi chiedo In maniera molto sommessa Cosa ti chiedi Cosa ti chiedi Se Natale 2023 Lo facciamo con l'albero Delle olimpiadi invernali Giusto Natale 2026 No anzi Natale 2025 25 perché sono a febbraio Esatto Come lo facciamo Non vogliamo fare Un quale delle olimpiadi estive Non lo so Un quale degli europei Gli europei di calcio Non abbiamo anche quello Perché sarò nel 2030 E appunto Poi qui sembra Boh non lo so Vabbè comunque Questo Bello dai Saranno sulle palline Con i sciatori Con lo slittino Con il bob Non lo so Con il curling Non so L'ultima volta che ho fatto La foto all'albero Di piazza Duomo Era quando era sponsorizzato Dalla coca cola Se non sbaglio Quindi anni Anni e anni fa Sì 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 Non sono Cioè Prediligo altri Spelacchio del 2017 Certo Cioè Io sono legatissimo Spelacchio Pensate È la cosa Ti va di copertà È la cosa più bella Che Roma ha dato al mondo No 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 Mi dissocio completamente Come minimo Prima c'è Carlo Verdone Ah no C'è anche Carlo Verdone No Venditi perché tu sei Grande fan di Venditti Anche Unico concerto In cui Hanno contestato Venditti Quando sono andato a vederlo Ma no come Perché parlava troppo E lui con la classica Gente affabile Con la classica flomb Tipica Di Antonello Venditti Fa Cosa vuoi Ce l'hai perché parlo Ti pago il taxi per tornare È stato Non male Non male Non male Non male Mi ha dato anche A.O. Alla fine No 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 Dai vendete No comunque Non è solo Spelacchio Però quanto gli ho voluto bene Spelacchio Mamma mia Quanto quanto gli ho voluto bene Con la pesce di Martino Musica leggerissima Dai che si canta tutti insieme adesso Un po' di musica leggerissima Ci vuole questa mattina Soprattutto se siete sulla M1 Qua a Milano E tanti applausi Sia per Calcutta Anche pensa per Lorenzo Masieri Pensate voi addirittura Oggi si mi sento buono Ma soprattutto tantissimi applausi Per il nostro ospite di oggi Walter Cherubini Consulta Periferi Milano Buongiorno Walter Buongiorno a tutti Ben ritrovati Anche i nostri radioascoltatori naturalmente Allora 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 Oggi iniziamo a parlare di periferie Prendo spunto da una intervista Di pochi giorni fa Dell'ex sindaco Albertini Dove è stato Interpellato sugli amborgini d'oro Dove ha fatto un mea culpa In un certo senso Giusto Walter Cos'è che ha detto precisamente Lui Sì aveva detto che secondo lui L'errore era di non essersi Opposto Diciamo così Alle richieste Alle proposte Della allora presidente Del consiglio comunale di Milano Che era Massimo De Carolis In particolare E quindi Avere assegnato Al consiglio comunale La La scelta finale La definizione La scelta degli ambrogini 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 che appunto vedremo Giovedì Sette 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 Dicembre Teatro dal Verme La mattina Ci sarà La La consegna La consegna Con anche le motivazioni Che vengono lette Molto curiosi tutti Di leggere Le motivazioni Di Pucci Abbiamo Mosso un po' Le acque Ma La cosa che Più ci ha colpito È un passaggio Verso la fine Di questa intervista Giusto Walter Dove L'ex sindaco Albertini Tira in ballo i tombini Cosa ha detto Leggiamo bene Il tema di fondo Era un pochettino questo Nel senso che dice Vabbè Lui commentava un attimino La condizione di sala Anche di questa uscita Sugli ambrogini La debito al consiglio comunale Insomma Di Di aver fatto un po' Di Di scelte Gestione clientelare Gestione clientelare Va bene Ecco Quindi Il tema Che lui ha posto è Il tema Il ruolo del sindaco È un peso gigantesco Il sindaco Di una grande città Responsabilità politiche Di un ministro Di serie A Responsabilità gestionali È il chiacchiericcio Del condominio Che gli chiede Le strategie Per il futuro Ma anche Che quel tombino Non debba tracimare Ecco Il tema È È proprio di questa natura Nel senso che Se noi chiediamo Al Un ministro di serie A Di occuparsi anche Del tombino Sotto casa mia Capite che Come organizzazione Non ci siamo Abbiamo un problema Cioè Rimangono i problemi Proprio perché Se noi abbiamo Questo tipo di impostazione Che il sindaco Diciamo pure Di una delle due Più importanti Città d'Italia Si debba occupare Anche del tombino Che sta In qualche quartiere In giro Disperso Dove volete Che andiamo A parare Esattamente Da nessuna parte Quindi continuiamo A avere i tombini Che rimangono Un po' Proprio perché C'è Una struttura Organizzativa Ma che è quella Ereditata Dal 1872 Dove allora Il sindaco Bellinzaghi Aveva il governo Di 9 km2 Cioè Del centro storico Nella sostanza E questa E questa organizzazione Malgrado Appunto Nel 1873 La città di Milano Si è andata Allargando Per estensione Territoriale Da 9 a 76 km2 Quindi Quasi decuplicando E poi Arrivando 50 anni dopo Nel 1923 Con l'aggregazione Degli 11 comuni Cosiddetti Contermini Da Affori Aniguarda Crescenzago Baggio Trenno Musocco Chiaravalle Milanese L'organizzazione È sempre Rimasta quella In particolare Certificata Proprio dal Comunicato Ai milanesi Da parte Della loro Sindaco Mangiagalli Dove diceva Che Aggregati comuni Le prerogative Amministrative Di questi comuni Venivano Assunte Dal comune Di Milano Cioè Trasportate Da Palazzo Marino Ecco Da Palazzo Marino Uno dovrebbe Vedere il tombino È una cosa Che non si può vedere Infatti Non la si vede Non è molto facile Vederla Tant'è che Proprio su questa idea Poi negli anni Sessanta Più o meno Nasce l'idea Del decentramento Decentramento Che come dite spesso È rimasta però Carta morta Lì Senza applicazione Lettera morta Senza applicazione Nonostante Voi Spesso volentieri Avete proposto Delle idee Su come gestire Il decentramento Davanti a te Vedevamo prima Hai portato qui Un puscolo Che avete fatto Come consulta periferie Credo no O tavolo Del 2007 E si intitola Problemi delle periferie E ruolo dei consigli di zona 2007 Anno delle periferie Di Milano Così no Sarebbe bello Oh Walter Che bello Tutto quello Che ho scritto Lì dentro Ormai È tutto Andato È finito Hanno sistemato Tutto quello Che avete scritto Qua dentro Invece Non è così Siamo ancora Potremmo cambiare L'anno Ridaglielo così in mano Problemi delle periferie Ruolo dei consigli di zona Adesso dovremmo dire Ruolo dei municipi Torgiamo zona Che è un municipio E il 2007 Faccio dentro 2023 Al di là di quello Che abbiamo fatto noi Il problema è che I consigli comunali E i consigli comunali Che si sono succeduti Non è che sono stati Veramente a dormire Quindi Noi abbiamo avuto Nel 68 69 L'introduzione Del decentramento Amministrativo Con La Individuazione Di 20 consigli di zona 20 consigli di zona Che anche Che rispondevano Dal punto di vista Del Confini territoriali Un po' a quelli Che erano anche Gli antichi comuni Milanesi Questo qui È il primo dato Con un regolamento Anche In particolare Deliberato Nel 1977 Che prevedeva Tutta una serie Di Possibilità Da parte Dell'amministrazione Decentrata Quindi dei consigli di zona Di intervenire Effettivamente Pensate che Aveva anche La possibilità Di intervenire In parte Sull'istituto Autonomo Case Popolari Quindi Le nostre Case Popolari Che oggi Sono gestite In parte Da regione Lombardia Tramite ALER E dal comune Di Milano Sono di proprietà Del comune Di Milano Tranne Tramite MMSPA Ecco Oggi come oggi Nel regolamento Dei municipi E quindi Stiamo parlando Del 2016 I municipi Hanno competenza Per l'edilizia privata Ma non per l'edilizia pubblica Chiaro Ecco Queste sono le cose Ci sono gli esempi Che ci sono Che ci sono anche In questo Opuscolo Che appunto Come dicevo Sono rimaste Ho visto che appunto C'era il tema Della casa I mobili comunali Chi li gestisce C'è ad esempio Questa domanda Adesso I mobili comunali Chi li riempie Perché poi Ci sappiamo Di quanto rimane Sfitto La sussidiarietà Che cosa significa Poi c'è Tutta l'organizzazione Metodo E proposta Insomma Anzi Questo qui Della organizzazione Andiamo a rivedere Quello che tu Chiami A canne d'organo Giusto Che però Non si parla Anche di loro Com'è che funzionava Dopo me lo racconti meglio Dai Allora Andiamo con un po' di musica Così poi Con Walter Capiamo bene Che le soluzioni esistono E si possono applicare Giusto Walter Ci potrebbero essere Perfetto Allora andiamo avanti Con i Bastille Bastille Scusate Con Shut off the light Alle 8.41 Qui Su Cristal Radio Bastille Bastille Che ci danno Di nuovo Il passaggio Qui a Cristal Radio E ci dicono Che dobbiamo parlare Di periferie Ci hanno detto loro C'hanno Sì Bastille Ma che hanno detto Oui monsieur Bélie Bélie Non sono francesi Perché stiamo Stiamo dando per assunto Che siano francesi Siamo Bastille Non so No non credo Sono francesi Walter allora Si chiamano Non sono svedesi Walter allora Abbiamo parlato Di organizzazione Lettera morta Finora Ma una lettera morta Che ogni tanto Viene richiamata Perché insomma I consigli comunali In questi anni Si sono espressi In realtà Però poi Certamente Con il regolamento Del 1977 Approvato Che però È rimasto Lettera morta Per vent'anni Dopodiché È stato fatto Un nuovo regolamento Nel 1997 Legandola Alla legge del Rio Che prevedeva Una diversa organizzazione Dei comuni In vista Delle elezioni Diretta del sindaco Della città metropolitana Perché oggi Il sindaco Della città metropolitana Che è il sindaco Di Milano Quindi Sala È eletto Indirettamente Diciamo così Non dal popolo Ma Da i consiglieri Eletti Nei comuni Che compongono La città metropolitana Non è eletto Cioè viene confermato Di legge Quello del capologo Diventa Sì quello Ma sono loro Che poi anche Per quanto riguarda La composizione Del consiglio Della città metropolitana Quindi c'è questa elezione Secondo livello Questa è elezione indiretta Ecco quindi Noi andiamo un attimino Anche a vedere Quali erano le motivazioni Quindi abbiamo detto Prima che Diciamo così Le circoscrizioni Territoriali Erano abbastanza Simili A quelle Che erano Gli antichi comuni Milanesi Ma perché Dal punto di vista Dell'identità Il comune di Milano È significativo È importante Da questo punto di vista Ecco Direi che Il punto fondamentale E uno dice Ma questo decentramento E questi consigli di zona Che cosa dovevano servire Il consiglio di zona È chiamato Ad assumere Le funzioni Di luogo Del governo Amministrativo Della zona Configurando Il governo urbano Come un sistema Politico Policentrico Chi ha scritto Questa cosa In un testo Del 1975 Era L'allora Assessore Al decentramento Nonché poi Vice sindaco di Milano Andrea Borruso Che era stato Il propugnatore Di queste cose Quindi Si configurava Una logica Di governo Amministrativo Della zona In una logica Policentrica E qui Possiamo chiudere Dicendo Se non hai Un'amministrazione Policentrica La città Policentrica Che tanto Si Narra Non ci sarà Mai Perché Se hai Un'amministrazione Centralistica È difficile Avere Una città Policentrica Infatti È il problema Dei tombini Eh sì E questo è il tema Poi pensiamo a questa cosa Quando parliamo Delle 20 zone Cioè se noi facciamo Adesso siamo 1.600.000 abitanti 1.400.000 abitanti 1.400.000 abitanti Comunque sta di fatto Che sono una media Adesso I municipi I nove municipi Hanno una media Di 170.000 160.000 abitanti A municipio Se calcoliamo Anche l'uno Che ne ha pochi E il nove Che ne ha 190.000 Più o meno Anche se dividi Per 20 Comunque Se parlano di 70-80.000 persone A zona A municipio È un Provincia Un comune Cioè Capoluogo di provincia Tranquillamente Nel senso Non stiamo parlando Di Diciamo che uno Tra i più grandi Perché dopo Brescia Che ne ha 190.000 Quanti ne ha Il municipio Nove Oggi Piuttosto che Bergamo Che ne ha Oltre 120.000 Quanti Il più piccolo Municipio Dal punto di vista Dei residenti Quello Che è quello Del 5 E sì Sono importanti Città Ma è importante Direi che Se anche Fossero 20 Sono tantissimi 20 municipi In realtà Hai delle fette Di territorio Magari un po' più piccole Sì Ma con 50-60-70.000 Abitanti Che insomma Non è proprio Non so la città di Aosta Quanto faccia Ma non credo Che faccia molti di più Ma la regione Tutta la regione Quanto a Osta Piuttosto che la Basilicata Cioè No Abbiamo sicuramente Saluto gli amici Della Basilicata Quindi questo qui È il punto A che cosa era servito Il decentramento Amministrativo Introdotto Ormai più di 50 anni fa Proprio al governo Amministrativo Della zona Quindi Il consiglio di zona Era chiamato A fare il governo Amministrativo Della zona Come è andata a finire A che punto siamo oggi Ecco questa qui è la domanda Ma c'è anche la risposta Che siamo esattamente All'intenzione di 50 anni fa Dove come diceva Il sindaco Albertini Che ha fatto due mandati Tra le altre cose Quindi ha ben presente La vicenda Si deve occupare Del tombino Ma è chiaro che Cioè al sindaco Sala Gli dovremmo chiedere Ma ha ragione Ha letto bene Il sindaco Albertini Che il sindaco Si deve occupare Del tombino E secondo lei Oggi Un sindaco Si deve occupare Del tombino Perché se la risposta È sì Stiamo così Se invece la risposta È no Non mi devo occupare Del tombino Allora di questo tombino Se ne deve occupare Qualcun altro Perché altrimenti Come oggi è Per esempio Di numerose proprietà Del comune di Milano Che sono Abbandonate Degradate Ma proprio perché Avere un appartamento Nel territorio milanese È come È uguale Avere il tombino Se ti devi occupare Del tombino E dell'appartamento Qual è il risultato È che Non riesci a occuparti Del tombino Non perché non vuoi Ma perché non riesci Organizzativamente Se io Mi organizzo Come Un negoziante Che ha il suo negozio Magari grande 100 metri quadri 200 È chiaro che All'incirca Fa tutto lui Ma nel momento In cui io ho Una catena Di supermercati Il negoziante Il negoziante Che ragiona Sempre con la stessa Mentalità È destinato A fallire Quindi Milano Può essere gestita Come un negozio No Perché non è Baranzate Già di bollate Che sono Meno di 3 Km quadrati Milano Ne ha 181 E quindi Si deve dare Un'organizzazione C'è stato Un tentativo Sì Ma Sono sempre Stati bloccati Poi regolamenti Attuativi Chi è che li ha Bloccati Ecco Senza dare colpe Però sicuramente C'è stata una stratificazione Politico-burocratica Perché c'entrano Consiglieri comunali Sindici assessori Ma anche Diciamo La parte burocratica Dirigenziale Che pensa Che Distribuire Tra virgolette Il potere Sul territorio Sia un vener meno Del proprio potere Ecco Questo qui Ma potremmo anche Precisare In una fase successiva Questo aspetto Della perdita Di potere Abbiamo già il tema Di settimana prossima Valter Abbiamo già il tema Di settimana prossima Valter Grazie mille Allora davvero Per essere qui Anche oggi Con noi E averci portato Come sempre In periferia Per capirle meglio Insomma Bisogna sempre Essere aggiornati Su quello che succede Nelle periferie Grazie mille A Valter Cherubini Noi ci vediamo Fra pochissimo Dopo Nicky Mirage Grazie mille Grazie mille